Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi venerdì 26 aprile 2024. Non possiamo aprire col Corriere della Sera perché è due giorni che è in forte ritardo, quindi partiamo con la Repubblica. La festa della liberazione, l'antifascismo un dovere, l'intervista scurati, la svolta illiberale è già iniziata, le democrazie sono a rischio. Quindi la Repubblica interpreta la festa della liberazione come propaganda contro il governo. Andiamo adesso a vedere il sole 24 ore che titola oggi Raffa, distruzione vicina, alto là degli Stati Uniti colpiramassi in altri modi e poi superbonus, allarme di Banca Italia, spese detraibili 21 miliardi di euro e poi gli scenari, lusso, la frenata arriva in borsa per caring, grollo del 7%. In ballaggi il Parlamento europeo approva il nuovo regolamento, crisi grave per mirafiori, senza ordini e incentivi, un mese di fermo. Grazie a tutti, andiamo avanti, vediamo la stampa. La stampa a tutti uniti sull'antifascismo, l'appello di Mattarella, Meloni, la liberazione base della democrazia, scurati, legge il suo monologo in piazza. Tensioni ai cortei del 25 aprile, i pro palestina insultano la brigata ebraica e fischiano l'inno italiano. E poi vediamo, senza memoria non c'è futuro, Macron, l'Europa rischia di morire. Voto a Strasburgo contro le infiltrazioni russe, Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si astengono. E adesso andiamo a vedere che anche Vannacci è candidato, ma nella Lega c'è la rivolta, secondo questo giornale, ma quella notizia che nella Lega c'è la rivolta non l'avevo letta da nessuna parte. Comunque andiamo avanti, il resto del Carlino, vediamo che titola, Totò diventa un brand, vi è il nome dalle pizzerie ma cambiare costa. E poi vediamo liberazione, 100.000 al corteo di Milano, insulti alla brigata ebraica, fischi all'inno nazionale, dai filo Gaza e dai centri sociali, nove denunciati per istigazione a delinquere, lampi, le contestazioni non sporcano la festa, Roma lancio di sassi e petardi, Bologna bruciati i manifesti col volto della Premier. Questa è la democrazia in Italia e poi vediamo Giorgia Meloni, l'Italia si ritrovi sul valore della libertà e poi Bologna, degrado a scuola, ritrovata a siringa nel cortile delle Ercolani. Mattarella, uniti nell'antifascismo e poi vediamo Vannacci, lista in tutti i collegi della Lega, ma dice che lui gareggia, diciamo, si candida come indipendente ma federandosi con la Lega. Vediamo il fatto quotidiano, 100.000 a Milano e insulti agli ebrei e poi vediamo l'Italia, la spesa segreta per Kiev è di 250 milioni da giugno 2023 a giugno 2024. Diciamo che tutti i paesi mandano dei soldi all'Ucraina senza dirlo ai suoi cittadini, c'è una parte che si dice e una parte che non si dice. Liste fratelli d'Italia, dall'Unione Europea alle regioni, il fratello di Santanchè e il nipote di Crosetto, due parenti d'Italia e tanti impresentabili, anche il fratello della Santanchè. Fidanza ha patteggiato il big milanese, prese 16 mesi per corruzione, c'è anche l'ex razza forzista Mantovani. Sì, che fidanza, diciamo, condannato per corruzione, viene candidata all'Europea, l'avevo già sentito, adesso vedo che c'è anche la conferma e anche degli altri parenti candidati. Andiamo avanti e vediamo adesso il messaggero, che titola La festa della democrazia, Ministeri, ecco i tagli di spesa, risparmi sui fondi destinati ai migranti e meno risorse ai sistemi Trojan per le intercettazioni. Stop all'autostrada in Libia, promessa Gheddafi, il MEF vuole economie per altri 2 miliardi. E adesso andiamo a vedere la verità, che titola La sinistra sbatte sul 25 aprile, lo diceva Sciascia, gli antifascisti sono i veri fascisti. Fischi e scontri alla festa di tutti gli italiani, masnade con bandiere rosse palestinesi hanno assaltato la brigata ebraica, come avevano fatto col padre della Moratti, ex deportato. Poi danno dei nazi agli altri. La verità è che i progressisti si sono impadroniti da anni della manifestazione. Quando c'è un governo di centrodestra danno sfogo a rabbia e frustrazione. Ufficiale Vannacci si candida con la Lega, Salvini punta al 10% per placare i mugugni all'interno della Lega. La Francia forza la mano sui risparmi e difesa serve l'atomica, l'abbiamo. Macron chiama l'Europa alle armi e mette il suo paese in prima linea. Siamo accerchiati, l'EMER punta ai soldi, investimenti con bollino dell'Unione Europea, da sbloccare solo alla pensione. E poi andiamo adesso a vedere il giornale che titola oggi, in prima pagina, l'Italia dei due 25 aprile, scontri in piazza, Meloni con la fine del fascismo nasce la democrazia, Mattarella unità nazionale doverosa ma nei cortei è caos, Milano pro-Palestina contro la brigata ebraica un ferito. E poi vediamo un altro colpo al Mitù assolto pure Weinstein, annullata la condanna. Europee Salvini candida Vannacci sarà in tutte le circoscrizioni, il generale in politica. E poi il giudice va a Trento e lascia 1515 fascicoli della mala giustizia. Il presidente di RFI tra in ritardo per cantieri e PNRR. Andiamo adesso a vedere Libero Quotidiano che titola Il peggiore di sempre, 25 aprile, il giorno dell'odio, scontri con la polizia, ebrei ucraini cacciati e insultati, un accoltellato, nove denunciati per discriminazione razziale, foto di Meloni bruciati, fischi all'inno, ma che razza di festa è? Domandone. E poi vediamo, credo che questo era l'ultimo, perché il tempo sicuramente non sarà pronto, infatti questo è il tempo di ieri. Grazie a tutti e arrivederci, a presto.